ciao sono matteo cressoni pilota professionista e oggi qui alla tomasi auto siamo a bordo di questa splendida 500 elettrica che dire gli esterni una vettura molto moderna molto innovativa tutta molto arrotondata e dentro onestamente è veramente futuristica questi interni questo colore in particolare molto molto belli ci sono con tutti questi spazi addirittura marchiati con la città di torino questo porta oggetti sulla portiera quindi veramente una una macchina all'avanguardia la macchina a 43 kilowatt che non sono paragonabili ai cavalli diciamo meccanici perché sembrano molti di più e la sensazione all'inizio è abbastanza strana che non sia rumore si sente solo arrotolamento delle delle ruote a tre modalità quindi alla modalità normale dove appunto se hanno utilizzo così di tutti tutti i giorni a una modalità dove risparmia al massimo la batteria che ha circa un'autonomia di oltre 300 chilometri e ha una modalità molto intelligente che al rilascio del gas non c'è bisogno dell'utilizzo del freno quindi è un freno motore automatico importante la macchina la macchina elettrica è un po' l'innovazione di questi ultimi anni e posso dire che in città credo che sia soprattutto in città credo che sia una una grossa novità è molto utile perché il gas quando si utilizza il gas a differenza appunto dei motori benzina diesel gpl la macchina risponde subito quindi si riesce a districarsi nel traffico in modo molto rapido e anche spesso ad evitare 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 incidenti è una macchina agile quindi anche il volante è un ottimo rapporto di sterzata vediamo che anche nei cambi direzione la macchina risponde bene quindi che dire è una macchina sicuramente che posso consigliare la posizione di guida è abbastanza alta quindi mi permette anche una visuale molto ampia e questo è sempre una bella cosa soprattutto in città con il traffico i pedoni le biciclette i monopattini e quant'altro e il prezzo è una macchina da 26 mila 900 euro sicuramente è un prezzo abbastanza importante ma se si va a considerare tutto il risparmio in termini di carburante e quindi energetico alla lunga è ripagato alla grande quindi vela vela consiglio fortemente e dovete venire a provarla per capire di cosa si tratta